Grazie a tutti E cosa avete in programma per oggi? Buono lo so Ma ci hai invitato qua per una scampagnata Ma chi vi ha invitato? Ma non lo so Lo zio Carlo è stato ad invitarvi Ah sì, quel vecchio collista Sì, sì, quello lì Eh, ho capito Vabbè, andiamo a vedere la chiesa Come mai, dico, cosa è successo Sì, ma dobbiamo proprio andare? Sì, sì, andiamo, andiamo Ma che l'ha stata in salita Eh, fa niente, dai, andiamo, andiamo Andiamo, andiamo Buon benvenuti, signore e signore A questo evento mondano Sono qua con mia moglie per Festeggiare l'arrivo del nuovo Parroco Che si chiama Don Carlo Donchè, signore Da queste vigne viene prodotto Il mitico vino degli angeli Di Santo Stefano degli angeli Eccoci qua A Santo Stefano degli angeli In queste vigne viene prodotto Il vino dello zio Guardate, sono ettari e ettari Benvenuti, benvenuti Ciao Benvenuti Com'è questo? Dopo, dopo, dopo Lo perdiamo dopo Adesso non c'è Aiuta lo zio, Tommaso Fai il vestitore L'addetto vestitore Dopo, dopo No, adesso non lo metto Adesso metto Vediamo Dopo Oh, santa pace Zio, questa è in subordinazione Alla nonna Com'è, dico Vieni, vieni Chiara Ciao Viva il nord Ciao 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 Ma tutti questi festoni qua Sono per lo zio Grande Nella casa sua ci sono tanti quadri E quando lui se ne andrà Morirà, dipende cosa fa Anche ci sarà un quadro anche di lui? Certo che ci sarà il quadro anche suo Speriamo il più tardi possibile Sì Dai, andiamo Va bene Ma devi camminare all'indietro come un gambero Don Carlo Cappi Benvenuto Don Carlo La vita gira Gli anni passano Anche i parroci cambiano Forse io dovremmo fare così Vanno avanti tre chierichetti Che lo aprono Poi i fedeli in doppia fila possibilmente La banda e i sacerdoti De la banda e i sacerdoti come un Miy Sì, è successo solo che la popolazione di Santo Stefano è cresciuto di uno, e speriamo che cresca anche di tanti. Tutti insieme cerchiamo di continuare il cammino che i nostri padri hanno cominciato tanti secoli fa, è un cammino fatto di fede, fatto anche di comunione, di stare insieme, di fare del bene, e io spero prima di tutto di non fare troppo danno, e magari insieme con voi di fare qualche cosa di buono. Ma scusami, la Chiara aveva detto che c'era nella canonica tutti i manifesti e gliela facevano anche a lui? Il manifesto non lo so, magari ce la fanno, l'altarino che è dedicato al primo frevosco, che ha voluto fortemente questa parola. Ah, ho capito, ma che ne faranno una per i pennelli? Sì, saranno molto più grandi di quelli altarino, un po' trimentino. Sì, saranno molto più grandi di quelli altarino, un po' trimentino, un po' trimentino, un po' trimentino.